buonasera buonasera a tutti benvenuti nel canale benvenuti in questo nuovo video video di riepilogo di quello che è stato il mercoledì al foro italico con particolare commento sulla derby tra fognini e sinner prima di parlarne l'invito è come al solito a mettere like al video iscrivervi al canale ed ad attivare la campanella per avere tutte le notifiche sui vostri dispositivi siamo un po fermi con le iscrizioni quindi mi raccomando chi non è già iscritto si iscriva si iscriva si iscriva mercoledì romano che ha visto come partita clou per noi per anche per il canale per i tifosi italiani la partita tra fognini e sinner l'ha vinta jannik per 623 663 una partita strana perché perché sì perché fognini ha iniziato il primo set veramente inesistente un fognini lento un fognini fuori dal gioco un fognini che si ritrova sotto 51 quasi senza lottare poi riesce a tenere a fatica il servizio per andare 5 2 perde il 762 ma quel servizio diciamo gli fa trovare il ritmo partita per quanto riguarda il secondo set nel secondo set a mollare sembra sia sinner che insomma si ritrova a subire il break a fare il contro break e a risubire il break cioè partita che sul 2 a 1 fognini del secondo va a 3 a 1 fognini poi 3 a 2 poi 4 a 2 e poi sinner non ha chance per rientrare e fognini vince il set il set giocando anche meglio di jannik la partita sembra esplosa sembra lanciata verso un terzo set lottatissimo un terzo set all'ultimo sangue scusate il termine ma una partita che insomma in palio c'era graino vicino ottavi quindi insomma un avversario per quanto difficile un avversario alla portata sia di sinner che di che di fognini e il terzo set effettivamente comincia con diverse occasioni da entrambe le parti perché fognini ha una palla break per strappare subito il servizio a sinner poi sinner ha due palle break per togliere il servizio a fognini e poi c'è il break il break di sinner del 3 a 1 che sembra spostare definitivamente la partita dalla parte dell'alto attesivo che va 3 a 1 poi tiene a zero il servizio per andare 4 a 1 arriva ad avere arriva sul 30 pari nel nel game di servizio di fognini quindi una mini chance per chiudere definitivamente la partita ma poi come succede spesso a sinner quando si arriva al momento di chiudere o di andare molto vicino a chiudere insomma sinner si spenge improvvisamente e subisce il il break che rimette che rimette tutto che rimette tutto in discussione break a zero break del 3 a 4 break che porta fognini a servire per il per andare quattro pari e in quel game lì fognini fa il fognini e concede la partita al suo avversario perde un game malamente perde un subisce il break a 15 e poi perderà anche la partita perdendo il il set a zero e scusate il perdendo l'ultimo game a zero e quindi perdendo il set 6 3 cosa da cosa dire in questa partita la partita che ha fatto vedere come fognini sia un giocatore che nei suoi picchi che purtroppo a causa età durano durano sempre meno cioè fognini riesce a esprimere un ottimo tennis ma per poco tempo che non è sufficiente a garantire di vincere le partite quando scende l'altro senza fare niente di eclatante riesce a batterlo e questo è un problema che per fognini è un problema di età secondo me è un problema anche di forma fisica è un problema che purtroppo diciamo c'era tutta la carriera di fabio è agli sgoccioli è un tenista ancora su alcuni momenti molto competitivo però non riesce a tenere soprattutto sulla distanza avrebbe bisogno di vincere avrebbe bisogno di vincere facilmente le partite in in due set e con sinner è dura quello che abbiamo visto di sinder sono alcune tentativi di variazioni le palle corte abbiamo visto un tentativo di variare il gioco ma abbiamo visto i i soliti problemi nei momenti decisivi soliti problemi che gli hanno fatto perdere la partita con zero e fa monte carlo gli hanno impedito di vincere l'anno scorso miami soliti momenti che si ripropongono nei momenti delle di difficoltà cioè sinner non riesce ad avere il killer istint nel momento in cui lo deve avere e questo ovviamente complica molto spesso complica le partite oggi era una partita che visto il primo set sinner avrebbe dovuto brutto dirlo per fabio io vi ripeto mi sono ritrovato a non tifare per nessuno dei due perché ho troppa riconoscenza per quello che mi ha dovrebbe far vivere sinner quindi ho vissuto con la partita assolutamente equidistante però è insomma sinner deve deve imparare a oltre alle variazioni anche a non mollare la preda quando l'ha azzannata spesso la preda a morsa da sinner riesce in qualche modo a sfuggire e poi a rimettersi in partita e il tennis sapete da soli che insomma se non se non chiudi quando devi chiudere poi diventa diventa un problema però abbiamo visto un sinner fare delle variazioni di gioco che non sempre sono riuscite ma che sono state provate contro un avversario che in quel momento garantiva un certo margine vedremo se jannick saprà farle anche con avversari più forti e vedremo se questo tipo di gioco non sia una variazione solo con avversari più diciamo alla portata e poi che con gli avversari più forti si ritorni a essere il solito sinner dal fondo campo serve avere il coraggio e provare a farle anche quando il livello dell'avversario dovesse salire per quanto riguarda le altre partite di roma pronostici padellati soprattutto nelle prime due avevo detto set di zero per settina dal non pensavo che onestamente isne dopo aver avuto due palle brecche nel primo set si spengesse come si è spento baez è andato abbastanza vicino a vincere il primo set lo ha perso al tie break poi anche lui si è spento vittoria a sorpresa di caciano sul carrello busta vittoria prevedibile di deminaur zitsipas che trema contro dimitrov si è salvato solo grazie ad un inizio sciagurato del del bulgaro nel tie break del terzo set mi sembra bulgaro finito sotto roba come 5 0 insomma tie break che si è compromesso il tie break del terzo set che si è compromesso ad uno del vero zitsipas doveva chiudere in due non ridando non ridando vita a dimitrov ed è il problema di questi giocatori sia di sinner che di zero perché di città molto spesso ridanno vita ai loro avversari e a volte capita che il ridare speranza ai tuoi avversari ti si ritorca poi contro oggi ripeto città si è salvato veramente per il rotto della cuffia fuori incredibilmente a sorpresa schwarzman che su questi campi non io non pensavo potessi perdere 61 76 da giron però così è stato il redivivo vavrinca fa fuori ger e questo era un risultato anche questo imprevisto ma il vavrinca che avevamo visto contro pelca se avesse retto alla distanza poteva farlo fuori goffin che io davo in un periodo di forma abbastanza buono e invece ha perso dal dell'americano broxpi addirittura perdendo 60 al primo set 60 76 e poi vabbè il derby tra sinnero e foglini ne abbiamo parlato quindi il programma di il programma di domani e in attesa dell'ultima partita quella tra cilic e norri il cui vincente affronterà garin gioco viva brinca una partita che ha il sapore poi domani uscirà il video su pronostici ma insomma una partita che ha il sapore dei vecchi tempi quando il buono standard vinceva slam e roba varia e quindi una partita un ritorno al passato per chi segue il tennis da tanto tempo o da comunque negli ultimi dieci anni vavrinca è stato uno di quelli che è riuscito a vincere slam nel periodo in cui 61 slam sono finiti a tre giocatori e oggi onestamente non era molto semplice giron contro contro aliasim vediamo se aliasim saprà confermare il buon risultato di madrid e abbattere e abbattere la sorpresa giron nadal sciapovalov con lo spagnolo ovviamente favorito e broxpi rude qua rude deve confermare di essere un giocatore da terra cosa che finora non è riuscito a fare kainovic sinner kachanov conto zizipas abbiamo avuto l'occasione di liberarsi di zizipas oggi grazie a dimitrov ma dimitrov appunto non ha sfruttato l'occasione poi come detto garin contro il vincente fra cilice e norri e zero contro deminaura attenzione a deminaura perché sembra di nuovo in forma e sembra il giocatore che ha messo in difficoltà al carazzo a barcellona quindi ci vediamo domani per i pronostici ci vediamo domani per i pronostici ci vediamo domattina appunto per i pronostici io vi saluto vi ringrazio vi auguro una buona serata grazie a tutti e iscrivetevi 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 lasciate like e attivate la campanella ancora grazie